cala la sera e calate anche le cicale si riesce a parlare un po meglio di cosa voi sapete che la questione cup miners sarà una questione praticamente eterna cioè se anche non dovesse andare alla juventus cup miner dove sapete che si parlerà sempre rientra nel famoso file no per il quale si ricorderà la juve nel tempo per questo certificato medico per per tutto il casino che si è creato che è stato creato che è stato creato attorno a una questione ad una questione che è trassi la questione che è trassi e quindi il caso cup miners entrerà negli archivi no di quello che è successo con la juve o alla juve o meglio all'atalanta in questo caso l'atalanta che lo ricordo sempre perché vorrei ricordarlo sempre è proprietaria di questo cartellino e può pure decidere di non mandare cup miners alla juventus ok può sempre decidere di fare questo fare le opportune valutazioni verranno fatte le opportune valutazioni da parte dell'atalanta da parte del giocatore da parte la juventus però è difficile trattenere un giocatore contro voglia però guardandoci anche un po indietro oltre a casi analoghi ci sono stati anche casi di certificati medici presentati da altri calciatori adducendo influenze o quant'altro o malesseri che non hanno potuto portare il giocatore o consentire al giocatore di allenarsi o di giocare una partita siamo sempre lì cari ragazzi siamo sempre lì a sguazzare nell'ipocrisia ed è una cosa abituale ormai abituale è una cosa con la quale la juve fa i conti da tempo e con la quale farà i conti io penso sostanzialmente per sempre altro discorso è chiedersi cosa può dare cup miners a questa squadra l'annosa questione dei giocatori dell'atalanta che quando escono dall'atalanta non rendono qui c'è un dato statistico o comunque c'è una conferma nei fatti abbastanza evidente non rendono come quando giocavano nell'atalanta soprattutto l'atalanta di gasperini che ha un suo modo di giocare del tutto particolare e che ma non vuole essere una critica è tutt'altro è tutt'altro è la massima esaltazione del collettivo io mi sono fatto questa idea forse me ne ho già parlato altre volte o forse no non ricordo credo che il segreto dell'atalanta sia quello di spersonalizzare i calciatori in modo tale che tutti facciano parte del medesimo scacchiere tutti si muovano all'unisono la punta di diamante il leader il pezzo pregiato dell'atalanta voi l'avete mai individuato in questi anni c'è quello che tu dici a quello là è un giocatore a parte quello là è il giocatore sopra la media no ragazzi se ci pensate bene poi adesso qualcuno tirerà fuori dei nomi ma saranno sicuramente molto opinabili l'atalanta è l'esaltazione del collettivo perché ognuno fa ciò che deve fare in funzione dell'altro l'altro in funzione dell'altro l'altro in funzione dell'altro io sto guardando mi sto appassionando tantissimo in questi giorni la ginnastica ritmica soprattutto quella squadre quella squadre abbiamo vinto un bronzo con la raffaelli ma nell'individuale a squadre i cerchi la palla sono in cinque che se se li lanciano si muovono tutti all'unisono se sbaglia una salta tutto ok l'atalanta è molto simile ovviamente il concetto applicato al calcio è diverso no perché comunque c'è sempre la possibilità di rimediare all'errore ma quando vedi le ragazze esibirsi nella ginnastica ritmica non cogli le differenze tra l'una e l'altra ok nell'atalanta praticamente così poi vero finale di europa league l'hockman ha realizzato una tripletta e quindi si è esaltato ma era il terminale offensivo di azioni giocate in questa maniera ecco perché ma questo non è un mio parere dal tutto personale quando il giocatore esce dall'atalanta probabilmente immesso in un gioco diverso nel quale magari deve anche prendere più iniziativa personale nel quale deve far saltare fuori determinate doti anche di personalità eccetera magari fa più fatica perché è abituato un giocatore ad atlanta è abituato a fare il passaggio praticamente ad occhi chiusi perché sa benissimo che la troverà il giocatore con quale ha provato e riprovato tante volte veramente il giocatore l'atalanta quando fa un movimento sa benissimo che c'è un altro che lo copre e sa esattamente dov'è in quel momento sono 11 giocatori mossi su una scacchiera ed è bellissimo è cioè quando dico che l'atalanta spersonalizza non lo dico in senso negativo lo sto dicendo in senso positivo è l'esaltazione del collettivo quindi adesso adesso in generale se mai ormai dovesse arrivare alla juve la juve dovrà essere brava tiago moto dovrà essere bravo a cercare di mantenere determinate impostazioni questo è un mio parere oppure essere bravo a tirare fuori da lui che cosa la famosa duttilità lui potenzialmente ce l'ha secondo me ma tiago moto dovrà ovviamente aiutarlo a perfezionarsi in questo allora sfumato todiboh ok sfumato calafiori ok leggo giuntoli ma basta out l'hashtag out conosciamo molto bene soprattutto negli ultimi tre anni adesso viene abbinato aggiuntoli a blauvic non farà gol quell'altro è scarso ma come l'anno scorso non era così po così forte da dover vincere lo scudetto non era scarsa l'anno scorso adesso ci sono degli scarsi che riguardano la gestione del passato anche qua cerchiamo di mettersi a posto di metterci a posto un po tutti con la coscienza ok rispondo anche a chi mi ha detto ma perché la juve non gioca con la difesa 3 a 3 difensori bravissimi a giocare a 3 e allora rispondo ancora una volta che tiago moto gli chiederai di tutto può farti i due centocampisti i tre dietro la punta o i tre centocampisti i tre attaccanti ma non ti potrai mai chiedere di modificare la difesa 4 sono contento che molti di voi la pensino come messo Urugani ma questo purtroppo non poterà nulla sono qui a dirvi che la juve sta premendo e sta accelerando in un certo qual modo sulla trattativa nico gonzalez perché tanto perché costa 30 milioni e in secondo luogo perché è un giocatore che ha già l'esperienza del campionato italiano e quindi diciamo che siccome si sta andando un po avanti nei tempi è vero che ne manca ancora tanto tempo di mercato però il giocatore straniero se fosse arrivato o di un altro campionato se fosse arrivato anche solo una settimana fa avrebbe potuto lavorare portarsi un po avanti visto che il tempo passa e non arriva all'esterno nico gonzalez non ha tanti problemi ad inserirsi nel calcio italiano come ne avrebbe altri queste sono valutazioni che sto facendo io e comunque si tratta di un buon giocatore iscrivetevi al canale ci vediamo domani tanto gli argomenti non mancheranno partiremo anche domani dall'ipocrisia vedremo ciao